Musica 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 Ciao ragazzi E benvenuti in questo nuovo video di Famiglia e Valigia Oggi siamo qui per fare un altro unboxing ma stavolta a tema Natale Pronto Carmi? No! Che cos'è? Oh! Casetta Kinder Musica Adesso l'apriamo ma poi devo farvi vedere ogni singolo Guardate un dettaglio innanzitutto c'è la soffitta qui C'è la soffitta Però ora abbiamo sopra la pelle Ragazzi ed eccola qui E' fighissima E' davvero stupenda perché Guardate qua Ha anche le soffitte ma poi ragazzi I dettagli Guardate tutti i dolcetti E gli animali carini Stupendo! Ma oggi ovviamente aprirete solo il numero uno Tutto Tutto? Tutto! No solo il numero uno No papà ma che ti facciamo? Va bene dai Proprio perché lo dobbiamo far vedere un po' a tutti Apriremo tutte le caselle Ma ovviamente non è che mangerete tutti i cioccolatini oggi No! Voglio dire una cosa che secondo me non sai No! Da quello che vedo dalla casetta Si possono aprire le soffitte! Vedete com'è carino Una volta aperto ci sono gli scoiattolini E i biscotti di pan del zenzio Ragazzi Io direi ormai Di iniziare Hai già trovato il numero uno? Ragazzi non sono i saluti cioccolatini Guardate qua! No! Non sono i saluti cioccolatini Non sono i saluti cioccolatini Non sono i saluti cioccolatini E' un avetto kinder Wow! Ma si appendono sull'albero? No! Per caso no? Guardate ragazzi E' un cioccolatino Rivestito con un involucro verde E tante palline E' proprio natalizio Però lo mangio Vabbè il primo si può mangiare Ragazzi abbiamo il numero due Numero due Guardate ragazzi stanno facendo una casa di pan di zenzero Si apriamo E vi diciamo già che la faremo anche io Un'altra vettina Un'altra vettina Quindi rimanete aggiornati Un'altra vettina Questo lo puoi mangiare tu? Lo puoi mangiare dai che è un menù No? No? No no Apriamo numero tre Numero tre Cercate il numero tre Qua Trovata Un Chocobons Cos'è? Un Chocobons Un Chocobons Questa è una sorta di cioccolatino Buon mio Ah questo te lo mangi però eh Ecco Quattro Quattro Numero quattro Wow Barrettone Kinder Ragazzi guardate qua Sono tutti a tema Natale Qui per esempio ci sono Babbo Natale Stelle Omini Regali Pupazzi è bellissimo Numero cinque Numero cinque Numero cinque Prometti Eccolo qui Li mettiamo tutti qui Numero 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 Qual è? Numero sei Questa? Quello che sembra è il nove Questa? Ma è un... È grandissima la casella ragazzi Oh oh Cosa c'è? Ops Se la sei è così grande La ventiquattro Cosa sarà? Oh Il primo ovetto della casa Era il numero sei Perfetto mamma Ragazzi Io l'avevo detto che c'era un ovetto Kinder Quindi ovetto Kinder Che apriremo Alla fine Alla fine Ok Sette 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 Un'altra barretta Ovviamente anche questa decorata di Natale Poi Io li appellerei sull'albero di Natale Non si può? Sì sì Sette Otto 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 Ha una forma bellissima, no, forse è un chocobonso, secondo me è un'altra barretta, no, un chocobonso, aperto, 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 aspetta, mannaggia, questo scoglietto lo sei mangiato, no, lo scoglietto lì non sono, no, basta, non ne devono finire più in questa boccuccia, mamma, guarda che, mamma, con una bambolina di marzo, è bellissimo, anche io, ovviamente è decorata, anche questa deve fare, ok, finirà sull'albero di questa, dopo 10, 11, ma uno a me me lo fate prima, anche io ne voglio aprire uno, no, cos'è, no, un pupazzone di nè, no, che mangi, carmi, Poggia è qui, dai li mettiamo domani sull'albero di Natale, ragazzi dovete rimanere aggiornati sul canale perché non solo faremo altri video stupendi, ma soprattutto Apriamo l'uomo, ma soprattutto il video di domani sarà dell'albero di Natale e ci metteremo i dolciumi, quindi rimanete a vedere Ragazzi, 11, 12, ho vetto, ho vetto, ho vetto verde, dopo, posso aprire un numero io, un numero papà, il 13 lo apre, mamma, no, io voglio aprire il 16, mamma è pure difficoltosa, e io apri il 13, ah, se no lo potete aprire il 13, mamma, mi sta qua, è una barretta kinder, è una barretta kinder, aspetta che non riesco, Papà, non República, non so apprire il suo capo, non so schiacciare, non so appいたare, nuova regga, apri qua, dai qua, c'è lo spattellino, e non so sfoggiare, mamma, vai, dov'è, papà, io forto, scattolo, è un gioco gioco, è un gioco gioco, è un gioco gioco, è un gioco gioco, basta, mamma no, Carmine sei un pazzie per questa Immagin », se no. Apro io? Ma io voglio aprire Non ce ne so Ma questo era il 15 e il 16 No, la casetta Ma che hai dietro l'orecchio? Oddio, dietro la schiena Non vedete Carmine, che fai di nascondere i giovetti dietro la schiena? Non fare il furbante Barretta Barretta Siamo al numero 16 Siamo arrivati già al 16 dicembre Il 16 dicembre è il nostro gnomo E' finito nel cammino Eccolo Eccolo, è il 17 E mi sa che si ruba anche i dolci No, è un folletto dispettoso Ragazzi Il 16 E' un ovetto 17 E' un ovetto kinder Novetto kinder Nel 17 18 18 18 18 Dov'è? 18 18 18 Ovetto kinder E' questo No, questo è il 21 No ragazzi Abbiamo spoilerato il 21 No, non l'avete visto niente 22 Anzi Guardate questo uccellino rosa con il cappello di Babbo Natale Ragazzi Qua c'è una barretta kinder 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Barretta kinder Io voglio aprire il 21 Barretta kinder Cosa uscirà? Barretta kinder Posso aprire il 21? Fai aprire il 21 Eri È una barretta Ma le barrette stanno qua dentro Barrettona Oddio ragazzi Vediamo Sono un sacco di cioccolate Tu aprivi la casa Io voglio fare una torre 22 22 Questo Quello che abbiamo spoilerato prima Sì Questo Ed è un altro grande Fallo vedere bene È un folletto Questo è il tubaccio di neve Questo è il follettino Che carino Wow Questo follettino Poi 23 Dove? 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 Qua Nel frattempo Eri ha fatto una torre Ciocca va! Ciocca va! Sono un parello di Natale Ciocca va! Fatti Ciocca va! Chocobom 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 E aspetta l'ultimo Aspetta Carmine Questo devi far vedere bene Mamma Aspetta Carmine Non ho fatto in tempo Eri Eccolo È questo È questo Kinder È un ovetto Kinder Un ovetto Kinder Yeah Ragazzi Vediamo se abbiamo finito Sì Eh sì No Mangia Avete promesso che aprivate gli ovetti C'è il buchino C'è il buchino Sì È di questa collezione Sì È di questa collezione Che bello Vai vai È giustamente solo Natalizzi Ed è di una collezione di Westpunk La collezione di Westpunk Ah sì Ah sì Westpunk Prima più ruvino perché è stupendo C'è questo cappelletto che si può anche togliere Quando a caldo lo leva Quando a freddo mette il cappello Ecco se si mette così Ok Mette il cappellino E poi Un babbo Natalino E babbo E babbo è così Lui con il cappello che non si può togliere Ragazzi Devo dire una cosa Noe Hai parlato sempre tu Vabbè in questo booklet Non ci hai fatto dire niente In questo booklet Non ci hai fatto fare niente Ma Pizzi In questo booklet ci sta una collezione Un booklet Vabbè una qui Vabbè Una cosa Aspetta Aspetta Che non si vede molto Questa è una collezione E noi abbiamo trovato Lui Questo pinguino E babbo Natal Ragazzi E quindi Iscrivetevi al canale Come vi vedete Mettete un like E se vi è piaciuto questo video Mettete Un pollicione Aspetta Che mi fai muovere tutto il telefono Ma Siamo a Eh sì Eh Domani Quindi ragazzi Il video di oggi È finito qui E ricordatevi Voi Iscrivetevi al canale Condividete il video E mettete un like E ricordatevi Di seguirci Anche sulla nostra pagina Facebook Guardate anche il video Di domani In cui faremo l'albero E appenderemo tutte le cose Che abbiamo trovato oggi Appenderemo queste Ed altre cioccolatine Che forse arriveranno A sorpresa Intanto domani Adobbiamo il nostro albero Di Natale Quindi mi raccomando Seguiteci Ragazzi Io e Lisa abbiamo già fatto Le letterine Ve le posso far vedere No Le facciamo vedere a volo Ecco qui Ah stavano proprio qui Sì Le letterine Le facciamo vedere domani Dai Domani Sì sì Perché alla fine Quando l'albero sarà pronto Le appenderemo sull'albero Va bene Allora A domani Ciao 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 Grazie per la visione!